Buongiorno a tutti, sono Manuel Orlandi, tutto l'interno della cooperativa Tesori della Terra. Una volta a seguire questa parte del laboratorio di analisi interno del casificio, seguo anche come tutor i ragazzi inseriti nei progetti di alternanza scuola lavoro. Quello che cerchiamo di far passare ai ragazzi è proprio la conoscenza dell'intero ciclo produttivo dello yogurt, a partire appunto dal lato di nostra produzione fino al vasetto confezionato e venduto. Ci piace pensare come progetto proprio questo ciclo produttivo intero, dalla terra allo yogurt, come nasce un yogurt sano, biologico e solidale. Proprio perché la nostra cooperativa è una cooperativa sociale agricola che si occupa appunto di inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati. Speriamo in futuro di avere il più possibile ragazzi nei progetti di alternanza scuola lavoro proprio per poter passare alle nostre competenze. Grazie.